La legge regionale tra un po' sarà modificata, passeremo dai sei auto provinciali a un auto regionale. È chiaro che la città metropolitana diventa interlocutore insieme alle province principali della regione, nel senso che l'auto regionale e il consiglio regionale saranno interessati dalla città metropolitana che attraverso una sintesi dei 41 comuni farà delle proposte per la gestione impiantistica dei flussi di rifiuti. Fermo restando l'impegno dei 41 comuni dell'area metropolitana di Bari di superare il 65% della raccolta differenziata bisogna poi studiare insieme alla regione tutta una serie di attività impiantistiche che vanno dalla biostabilizzazione al compostaggio fino ad individuare anche per una piccolissima aliquota di conferimento anche le discariche della provincia di Bari. Grazie a tutti.